allora dopo aver anche provato Trunks sia in duplice copia che in monocopia in un altro team attualmente forse il più carino potrebbe essere in team full power con un doppio Goku Super Saiyan 4 però badate bene a chi vi portate in team perché ha sempre comunque bisogno di altri 3pg android del saga che attualmente è il suo più grande difetto perché io ho sempre detto che non è un brutto pg però ha diversi problemi che non me lo fanno apprezzare troppo intanto le due categorie di cui è leader la massed evolution è una categoria imbarazzante è il terzo leader di questa categoria e non riescono a fare qualcosa di decente il terzo leader di questa categoria sono tutte e tre ingiocabili cioè lui praticamente è il più giocabili dei leader ma ci vorrei anche vedere è uscito adesso andresa il saga sicuramente aveva bisogno di un leader super questa categoria perché l'ultimo leader era extreme ed era sell agl e quello prima era sell lr int poi vabbè tralasciando le due categorie rapid gru e earth bread fighter che prendono il 30% vabbè proprio rapid gru comunque in generale anche come leader non mi fa gridare al miracolo si poteva fare di meglio special allora nella forma super saiyan abbiamo resta attack and death per un turno immense damage la passiva due ki attack and death 150 un addizionale 100% attack and death con un additional garantito e 70% di chance che sia special e poi abbiamo questa alta chance di attivare la guardia se ci sono altri 3 pg della sell saga per l'appunto come dicevo prima quindi di base lui c'ha 150 attack and death se ci sono 3 pg sell saga abbiamo sia stats in più sia un additional con 70% di chance che sia special più questa media questa 50% di chance di attivare la guardia che sarà il suo più grande punto debole non tanto perché vabbè ma comunque lancio della monetina tutto quello che volete ma il suo più grande difetto legato a questa parte di passiva è che hanno avuto la brillantissima idea di dargli delle stats difensive bassissime quindi questo pg o lo valutate veramente da bd alta cioè proprio che ci puntate e dici il mio pg preferito lo voglio fare full a bd deve distruggere tutto perché poi tutto sommato è anche molto forte ma ne vale la pena prima dei kk di fare sta porcata soprattutto pensando al fantastico raid summon che gli hanno messo nella batch io poi non so cosa metteranno nella batch ma io non mi aspetto nessun capolavoro come batch quindi stats difensive basse con questa chance di attivare la guardia nella sua forma super saian vuol dire veramente soffrire tantissimo nei primi turni finché non si trasforma fortunatamente è veloce la trasformazione perché deve attaccare 5 volte e sottolineo attaccare non c'è bisogno di lanciare special e soprattutto la sua acti skill attivabile 2 volte sia in forma super saian che in super trunks se la attiviamo quando è super saian conta come attacco e quindi va ad aumentare quel counter di 5 attacchi che dobbiamo fare per trasformarlo che altro c'è da dire? attacca in def 70% al lancio della special super efficace se il nemico è cell quindi in questa forma qua tutto quello che volete i danni però è strettamente legato soprattutto al fatto che c'è quel 50% di guardia se si attiva bene se non si attiva è un problema e soprattutto è un problema legato non tanto a se stesso ma al team che gli sta intorno perché ad oggi trovare 3 cell saga che vanno a colmare i suoi difetti è un problema questa è la verità perché se avesse avuto che ne so magari invece di 3 cell saga 3 hybrid saian per dire oppure 3 vegeta family probabilmente era meglio sarebbe stato meglio perché li avremmo trovati sicuramente i dei 3 hybrid saian da mettere nel team o 3 vegeta family invece questo cell saga che non lo so magari lo boosteranno a breve quindi dovremmo rivalutare trunks ma io me lo auguro ma io me lo auguro però parlando nell'attuale vale la pena puntare su sto trunks e gridare il miracolo ad un mese a meno di un mese dai kk io non lo so senza sapere la bacia se considerando che il rare summon che hanno messo accanto a lui è ridicolo perché se avessero fatto almeno il rare summon decente allora tu mi potevi venire a dire vabbè trunks c'ha il limite però gli hanno dato un buffer che è tipo piccolo str te lo giochi come come pg nell'android cell saga te ne servono solo altri due e gli altri due teoricamente sarebbero go on sl ma invece no invece no perché quel pg che hanno dato è ridicolo e insomma se invece fosse sempre trasformato apri di cielo perché è veramente forte cioè non da trasformato non gli si può dire nulla risa attacca in def per un turno pure da trasformato in mensa damage e soprattutto gli hanno dato il crit crit nella specie ha tanta roba nonostante ha questa parte di passiva che forse è una delle più brutte di tutti i pg del gioco ovvero quella di avere il boost di stats in base agli hp nonostante questo non gli si può dire nulla perché parte con 4 ki 300% attacca in def di stats guardia garantita per 3 turni in quei 3 turni vi devono servire per chiudere la run quindi ad oggi ok se dovessero uscire eventi un po' più lunghi dopo questi 3 turni non ce l'ha proprio più la guardia perché perché non mi hai dato la chance di nuovo di avere almeno il 50% di guardia dopo questi 3 turni ma comunque 200% attacca in def di boost in base agli hp quindi per un totale di 500% attacca in def a full hp e un minimo di 320% con 10% di hp sarebbe che comunque gli fa lanciare delle botte assurde e gli fa raggiungere una difesa assurda post special chiaramente da calcolare post special ne può fare fino a 3 arriviamo a un milione di def con guardia con full hp e un 700.000 circa di difesa sempre con guardia dopo 3 special con il minimo degli hp lancia anche in questo in questa forma l'additional sempre sempre crittata perché comunque c'ha il crit nella special e le stats c'ha un 100% attack and def da calcolare separatamente tra l'altro una cosa che non abbiamo ancora visto perché in tutte le run dove l'abbiamo provato figuriamoci i nemici non sono più stannabili però può anche stannare con la special cosa che non abbiamo proprio visto poi la cosa più rotta che c'ha personalmente è che quando entra in campo da trasformato e abbiamo il giusto numero di hp per poterlo fare ovvero sopra il 60% di hp praticamente abbiamo il ghost usher cioè abbiamo questa active che fa danno pure bello alto come danno tra l'altro quindi non è neanche neanche una cosetta da niente un bel danno con ghost usher attivato praticamente diciamo la versione migliorata degli androidi tech quindi tanta roba link golden warrior messager in front of the future super saiyan royal lineage prepare for battle soul vs soul face battle c'ha il quei 3-4 link super versatili che sono super saiyan prepare for battle face battle chiaramente e golden warrior poi c'ha royal lineage che andrà ad attivare con i membri della sua famiglia quindi vegeta family messager in front of the future è un po' più raro dovrebbe essere uno di quei link da attivare con o i trunks o i sell cioè questo dovrebbe essere il link della sell saga e poi c'è questo soul vs soul che è un'altra presa per il culo incredibile che è un link del primo anno che ad oggi serve veramente a poco da 2 ki e 5% attack and death ok ne posso anche fare a meno categori allora qua c'è l'altro discorso da fare le categori sono tante hybrid future saga full power transformation boost time trailer vegeta family super saiyan sell saga bond on master rapid grow savior connected up alien events master ed evolution entrusted will power beyond super saiyan earth blade fighter allora parliamo seriamente adesso del pg nelle altre categorie perché in quante di queste categorie ci possiamo portare 3 sell saga decenti veramente poche veramente poche almeno per ora però bisogna capire allora io l'ho provato anche monocopia negli altri team non non è malvato full abiti chiaramente cioè qua parliamoci chiaro full abiti monocopia negli altri team senza 3 pg quindi se lo volessimo giocare in un team random chiaramente come danni dobbiamo levare nei primi turni soprattutto nei primi turni dobbiamo levare il 100% addizionale quindi partiamo solo con 150 non abbiamo l'additional e soprattutto non abbiamo proprio la chance di attivare la guardia quindi è tutto buildato tutto da considerare sul ok forse post special mi è dato full l'add se faccio due special mi aumento attack and death del 30% ce la dovrei fare a tankare perché comunque c'ha il 70% attack and death al lancio quindi 5 milioni di carica una difesa decente e un barolone però che almeno dovrebbe farti tankare i pugni nelle prime fasi delle battaglie il problema però è che senza la possibilità di fare le add e senza la possibilità di avere delle stats decenti con altri 3 ser sac nel team e la guardia guardie è molto più lento cioè mi può pure capitare che vi lancia un solo attacco e quindi state là a cercare di fargli lanciare 5 attacchi infinito è infinito cioè senza ha il supporto e apri di cielo poi comunque riesce a trasformarsi dopo i 5 turni o dopo i 5 attacchi perché poi alla fine si può attivare anche dopo i 5 turni il problema è che i 5 turni suoi più 5 turni è tanto noi ci stiamo parlando che ad oggi un Sin Sherron che è una battaglia da endgame con il team con Bulma dentro a stento si riesce si riesce ad attivare l'acti skill di Bulma cioè veramente possiamo chiudere l'evento già al sesto turno quindi per vedere il suo trunks monocopia in un team dove non ci giocate 3 pg androise del saga io non lo so penso che probabilmente alla lunga sceglierete altro da mettere nei team quindi o lo andate a giocare in quei 2-3 team dove riuscite a portare 3 androise del saga oppure vi scoccerete di usarlo questa è la verità stralasciando che comunque è un leader di merda quindi reso conto finale trunks è sopravvalutato come da titolo no è un buonissimo pg però funziona solo in quei 2-3 team e quindi non è nemmeno colpa sua attualmente se non è fantastico questo è tutto ne vale la pena pullarlo? allora tralasciando quello che ci potrebbe essere nella batch io dico di no ad oggi non ne vale la pena pullarlo perché se proprio volete giocarlo potete tranquillamente provarlo amico e usare uno dei mille pg che potete mettere come leader sostitutivo compreso vegeta fisico che è andato a dance anche se gli da solo 130 questo è tutto ragazzi a me io l'ho provato ci ho provato in tutti i modi a farmelo piacere proprio che dico wow però è troppo bello fa questi 20 milioni incredibili grittati che bello trash special cioè tutto quello che volete ma non mi riesce a a piacere perché in 10 run la media acquisì in 10 run 5 run muori male proprio come un uomo di merda non riesci neanche a vedere la trasformazione gli altri 5 run se giochi bene ti diverti però ci stanno team talmente più belli che non ne vale proprio la pena soprattutto dopo dopo quest'anniversario cioè voler giocare doppio trunk se veramente piace il gusto dell'orido questo è tutto ragazzi io spero di non essere risultato troppo antipatico io lo faccio per il vostro bene lo faccio per voi hanno annunciato tutti gli eventi nella nuova celebrazione eh l'ho visto oh incredibile piccolo è Selsaga andiamo a vedere corriamo subito no no non è anche registrato rabbit non l'ho registrato poi dopo la live mi recupero questa ispezione e lo ricarico piccolo piccolo fammi andare a vedere Selsaga che mi porta rido eh Selsaga quel piccolo rido vediamo vediamo dove sta piccolo tech piccolo tech era questo no questo è quello del bubble shop era questo perché in tutto ciò c'è anche ancora un piccolo tech del bubble shop Selsaga a posto trunks più forti del gioco abbiamo fatto ragazzi tutto a posto bastava aspettare l'editor di piccolo tutto a posto il pg più forte del gioco eppure buffer guarda ti immagini questo secondo me ci vuole proprio poco ad essere più forte di quel gohan che hanno messo nella batch ma ci vuole proprio poco 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 già è buffer così figurati a tour e ad ezza mo lo fanno guardia attiva buffer cioè lo fanno tipo come quello la str pullabile però solo con i Selsaga ti immagini adesso siamo pronti si 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 tutto ha cambiato ragazzi cambiava tutto tra l'altro vanno ad ezza pure questi due abbiamo visto l'altro giorno e questa è quello che era fisico questo a posto abbiamo fatto ragazzi abbiamo i Selsaga abbiamo c18 c17 è piccolo su tre hai visto abbiamo risolto trunks più forte del gioco adesso rifai il video adesso appena appena annunciano gli ezza no dobbiamo rifare tutto da capo perché ora trunks si può giocare ma piccolo è confermato si 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 ce l'ho qua vedi eccolo qua c'è anche la data l'8 agosto va ad ezza comunque me a parte capiamoci io sono contento se fanno questi tre ezza veramente di supporto per trunks cioè sono pronto a rimangiarmi tutto sono pronto a rimangiarmi tutto se riescono a fare tre pg che rendono questo trunks ineluttabile a rimangiarmi tutto